Il 28 giugno scorso, nel cortile dell'alberghiero Santa Marta di Pesaro, ha cominciato a prendere forma un'utopia che un mese e mezzo dopo non solo è divenuta una splendida realtà, ma anche una scommessa vinta su una esperienza di condivisione, lavoro e inclusività. Quella del festival Utopia, che con l'impegno di Onlus Gulliver, Comune e lo stesso alberghiero Santa Marta, ha creato uno spazio fisso di ristorazione e intrattenimento, votato all'inserimento lavorativo di neodiplomati, trovando soprattutto uno spazio ad hoc per valorizzare i talenti dei ragazzi con disabilità. Il tutto con circa 60 giovanissimi a gestire l'intera attività dalla cucina al servizio fino alla fine di agosto. Il festival Utopia è un sogno che continua fino a fine agosto. Io mi invito a tutta Pesaro e Comune di Mitrofi, ma anche da più lontano, di venire a trovarci. Sosteniamo questi ragazzi perché questo è un progetto innovativo mai sperimentato. Ringrazio i miei concittadini perché abbiamo superato le 5.000 presenze a questo festival, quindi siamo veramente molto onorati. Vuol dire che i cittadini hanno compreso perfettamente il senso di questa sperimentazione che mette al centro il lavoro e mette al centro le persone con situazioni di disabilità e con condizioni di vita non tipiche. Mi permette di essere un utopista. L'utopista è colui che ha il continuo compito di denunciare e annunciare. Abbiamo voluto fortemente questo festival per rimuovere le politiche che hanno a che fare con il lavoro, in particolare con il lavoro per le persone che hanno difficoltà intellettive o difficoltà relazionali. Questo mese intenso di lavoro tutte le sere, la mattina anzi, la mattina per la produzione di pasta fresca e poi dalle 5 del pomeriggio qui è stato sempre pieno di ragazzi che hanno realmente messo in opera tutte le loro competenze per poter far star bene le persone che sono state qua. La scuola ha avuto un ruolo centrale, propositiva come sempre. Cerchiamo di coinvolgere, di aprire anche alla scuola la cittadinanza e questo è il modo per farlo. Quest'estate infatti la scuola non ha mai smesso di funzionare e siamo molto contenti perché i nostri ragazzi animano questo progetto, danno vita a questo esperimento che ha contagiato un po' tutta la cittadinanza del pesarese e non solo. Siamo partiti in questa che all'inizio era un'avventura ma adesso sta diventando veramente una realtà. Quella che era un'utopia adesso si è trasformata in una meravigliosa realtà. Devo dire che questi ragazzi sono stati finora formidabili perché hanno dato gli esami di maturità verso fine giugno e primi di luglio e poi si sono catapultati immediatamente in questa esperienza. Veramente con tutta la passione e ancora sono qui a portare avanti con il sottoscritto e un gruppo di ragazzi dell'associazione che ci danno una mano tutto questo programma e loro vengono qui 3-4 ore, 5 ore del mattino e poi la sera fanno il servizio. Veramente un ottimo lavoro, anzi nell'insieme con il gruppo cucina e tutto il gruppo dell'associazione e sala perché parliamo di ristorazione. Si è fatto un lavoro veramente egregio, siamo andati al di là delle aspettative. Io penso che ci sia stata una grande possibilità, una grande opportunità perché appunto potevamo benissimo uscire ogni sera con i nostri amici, andare al mare e invece abbiamo scelto di stare qua e penso che ci sia stato fatto un grande dono perché stare con tutti questi ragazzi è un grande processo di maturità per noi che comunque siamo oggettivamente da ragazzi abbastanza piccoli e penso che appunto sia una grande opportunità rispetto a molti altri ragazzi che non vivono questo mondo e che non sanno cosa voglia dire interfacciarsi con appunto tutti questi ragazzi e quindi ringrazio la Gulliver e ringrazio l'alberghiero e penso che sia un pensiero comune di tutti. Alla fine di questa esperienza ci possa essere un'inclusione per mio figlio e non solo per il mio, per tutti i ragazzi che stanno dimostrando di essere capaci e di essere all'altezza di poter gestire un lavoro in tutta la sua complessità. Scoprono di saper fare cose dove prima magari non erano convinti o credevano di non saper fare e quindi speriamo tutti che questo porti anche a loro nel futuro, in un prossimo futuro anche un inserimento lavorativo soddisfacente. I ragazzi sono stupendi, aiutateci, sostentici fino alla fine, veniteci a trovare, partecipate, condividete con noi questo progetto perché tutti insieme se siamo uniti possiamo andare oltre l'estate e con loro creare qualcosa anche durante l'inverno.